Salve a tutti, ritorniamo alla grande oggi. Siamo a Castello di Ponte Chianale, oggi affronteremo una cima del punto del Monviso, ossia Punta Dante, che percorre per gran parte la via storica di salita al Monviso, quindi ci inoltriamo qua dietro nel ballone di Vallanta, poi arriveremo al mitico e faticosissimo Canalone delle Porcioline, per poi arrivare al bivaco Borelli e successivamente su Punta Dante. VAMOS! 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 Allora, abbiamo preso la deviazione per il sentiero Ezio Nicoli, che è quello che conduce laggiù in mezzo la gola delle forcioline, quindi lasciamo il sentiero che prosegue per il rifugio Vallanta e ci addentriamo in questa gola verso il bivacco Alessandra Boarelli. Eccoci qua, siamo giunti all'imbocco del famigerato canalone delle forcioline, le mie spalle, noto per la sua fatica, diciamo che anche arrivarci non è uno scherzo, il sentiero sale abbastanza ripido, adesso ci aspettano 800 metri di dislivello di canalone, buona fortuna a noi! Ragazzi che fatica, durissima, veramente faticoso! Sto aggiungendo la nebbia da fondo valle e proseguiamo comunque nel canalone, ci sono diverse indicazioni, non ci si può perdere, guardate qua, situazione spettrale! vuoto da 1 a 10 al canalone! 10 no! 10! 10! 10! Bene, siamo quasi al bivacco Boarelli, alle forcioline e con un tempo dire incredibile non pensavo, due ore e un quarto, pensavo che l'applicazione si fosse sbagliata e invece tutto è tutto vero, e beh si vede che la vacanza in Sicilia mi ha fatto bene! Eccoci in arrivo al bivacco Boarelli, ecco là, punto di sosta e di appoggio per le salite al Monviso, sopra il bivacco vedete che c'è un passo, il passo delle Sagnette, da là si arriva dalla Valle Po, dal rifugio Quintino Sella, sempre per la salita al Monviso, che si dipana a sinistra al fondo di questo anfiteatro qua, guardate che ambiente spettacolare! Lo so che sei! Grazie Luca, un incontro inaspettato di ritorno dal Monviso, il grandissimo Luca, la piccolissima Ciao Grazie a tutti Bene, eccoci quasi a nostra mente finalmente, dopo molta fatica dal Correlli abbiamo lasciato i laghi e dopo il bivio in cui abbiamo incontrato Luca abbiamo preso questa coca decisamente faticosa Finalmente siamo arrivati, faticaccia, davvero Eccoci addirittura d'arrivo, manca pochissimo, laggiù si vede già la croce, coraggio Forza meta Grazie a tutti 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 Grazie a tutti